A presto! Fuori di questo programma non avrei problemi a frequentarti personalmente. Voglio andare a casa! Sei così un manzo che dovresti far scoppiare gli ormoni alle femmine. Tra le tue braccia sto proprio bene. Se Pietro prende una decisione, Pietro non c'è più poi. Questo è scemo. È cretino. Se finisci con Anna, c'ho sette anni. Non è che c'ho... Lui è come un bambino ora. Stammi la decisione. O mi hai portato Anna qua, o io vado da là. Io non posso dipendere da un uomo per far campare i miei figli, io devo lavorare. Ho visto abbastanza. Penso che possa bastare. Ma non ha capito con chi c***a che fare se pensa di fare la deficiente con me. Mi ha ucciso dentro, Filippo. Mi ha ucciso dentro. Questa faccetta era para c***a. La conosco solo io. Loro no, ma io sì. Milano. Monte. Cap? utti. Grazie.